Siamo davanti al Polofragri di Battipaglia dove sono state trasferite le 16 classi dell'Istituto Marconi che tra poco sarà abbattuto. Questa strada è via Adriatico e ci giungono parecchie segnalazioni che è una strada con molte buche, con marce a piedi dismessi, insomma bisognerebbe operare un restyling alla zona. E noi giriamo tranquillamente questa richiesta ai nostri amministratori affinché accontendino i residenti e tutti coloro che si regono su questa strada ad accompagnare i figli a scuola.